E poi arriva quel momento in cui lo sport ti entra dentro, una vibrazione forte che non ti fa pensare ad altro, ti prende, ti trascina fino a pattinare in pantofole per il corridoio in posizione aerodinamica e ramazzare il parquet in modo così veloce da smontarlo, muoversi all'unisono con gli slalomisti tra i paletti, affrontare una salita come se fossi Silvio Fauno, disegnare le curve come zugle e passare il sale a tavola come se stessi tirando una stona. Quel momento in cui ti libri in aria elegante e come Carolina Kostner ed esulti con la bandiera al collo, tremi con l'oro, esulti con l'oro, perdi con l'oro, è il momento delle Olimpie d'Invernale dove la magia del ghiaccio si unisce al fuoco sacro di Olimpi, per un connubio che resterà per sempre impresso nella storia dello sport. MDS Inside the Game